uè non fare il babbo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xiodarone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi tornano le news di fortnite purtroppo non per forza belle c'è da dire che un problema è sopraggiunto proprio nelle ore del tardo pomeriggio di ieri sì ragazzi perché i file di gioco le api di gioco che in poche parole sono le api sono quelle quei file che vanno a richiamare determinati eventi o momenti importanti nel game sono stati aggiornati e l'aggiornamento più grave che abbiamo notato è stato il posticipo della season 2 sapevamo tutti che dovrebbe che doveva iniziare il 6 febbraio ma secondo quanto scoperto ieri la data è stata posticipata al 20 febbraio quindi purtroppo c'è una grande grande delusione generale ma ci sono anche delle notizie abbastanza carine ad esempio parleremo della patch 11.50 e sì ragazzi perché posticipando una season ovviamente non si può lasciare un buco così lungo da una patch a un'altra patch ed è lecito aspettarsi qualcosa che magari possa dare un pochettino più di dinamicità al game ovviamente non mancherà una bella sbadilata di leaks per tenervi comunque sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live sulla piattaforma viola dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video prima la domandina ve la devo fare è un po che non ve le faccio però fatta una l'altro giorno grazie per tutti i commenti domandina di oggi vagamente nostalgica ma te cosa ti manca del vecchio fortnite dai pensateci un attimo la cosa che dici mi manca tantissimo è qualsiasi cosa vi venga in mente io ho messo un'immagine simbolica ragazzi ho messo un'immagine simbolica perché a me mancano gli eventi ricordiamo il cactus verso doggus ma mi ricordo l'evento del rocket ma mi ricordo l'evento del cubo ma mi ricordo l'evento del re dei ghiacci ragazzi mi manca qualcosa che dia quello spunto a fortnite che solo chi ha giocato fortnite da tanto sa sicuramente capire ma quindi ciancio alle bande e mando alle ciance andiamo subito subito a vedere ragazzi il primo argomento di oggi è tornato fuori magazzino i rocket pericolati quei razzettini cagli quelli che non fanno molto male all'avversario ma in realtà demoliscono violentamente le strutture perché hanno portato dal magazzino i razzetti beh io immagino sia ovviamente per il capodanno cinese che inizierà se non vado errato il 25 gennaio quindi questo sabato razzetti che potranno essere utilizzati che hanno comunque una loro funzionalità e che credo vedremo solo per un periodo di tempo limitato godiamoci lì finché ci sono andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi e qua cominciamo appunto a parlare di quello di cui vi avevo accennato all'inizio del video il calendar api update ovvero sia quella voce che si chiama display and date che vuol dire mostra la fine di in questo caso si parla della season e della season 1 è stata posticipata appunto dal 6 febbraio al 20 febbraio come leggiamo da questo post ha senso che ci si possa aspettare una patch 11.50 ma in realtà attenzione perché ufficialmente sappiamo da parte di epic games che la season numero 2 inizia il 6 febbraio non è ancora arrivata nessuna notizia ufficiale che dica abbiamo posticipato dal 6 al 20 c'è un barlume di speranza questo barlume di speranza ragazzi potrebbe essere il fatto che stiano testando qualcosa nelle api di gioco e magari hanno posticipato la season finché non sarà ufficiale da parte di epic games niente è ancora dato per scontato quindi non disperiamoci magari ci va bene infatti come stiamo vedendo in questa immagine nel sito è ancora scritto che il termine è al 6 febbraio io mi auguro veramente che siano solamente dei test da parte di epic e che non dovremo aspettare ancora così tanto per il secondo capitolo perché dai ragazzi diciamoci la verità una season che inizia il 14 ottobre e mi fa ottobre novembre dicembre gennaio e febbraio ha un pochettino stufato almeno mettetemi un veicolo almeno mettetemi un movimento non vi stiamo chiedendo niente dateci qualcosa per poter fare qualcosa non lo so incrociamo le dita e stiamo a vedere e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi lo avete già sentito sicuramente scoppiato il caso rimozione delle skin e dei v bucks eh sì ragazzi io ve l'ho sempre detto ve l'ho sempre sempre detto non andate da persone di cui non potete fidarvi è successo il clamoroso caso state attenti quelle due volte che ho sponsorizzato una pagina in entrambi i casi è successo che centinaia di persone hanno creato account simili magari cambiava un punto magari cambiava un trattino e molti di voi ahimè ci sono cascati e sono stati violentamente scammati io vi dico sempre se dovete fare un acquisto del genere pagate con paypal pagate con paypal o non acquistate perché con paypal siete protetti cosa vuol dire tutto qui tutti quelli che hanno acquistato la iconic ma anche i v bucks in siti che non siano legit e quindi che emulavano codici dispositivi per darvi appunto le ricompense piano piano epic games sta rimuovendo le skin e oltretutto togliendo anche i v bucks perché hanno girato parecchio anche i codici da 1000 v bucks da 5000 v bucks da 13.000 v bucks mi raccomando ragazzi state attenti è un periodo molto delicato non fate acquisti strani se non ne siete sicuri o accertatevi che il ventitore sia assolutamente legit per incappare in spiacevole gli spiacevoli eventi siamo arrivati alla fine del video di oggi volevo semplicemente farvi vedere una cosa invece molto interessante che è stata trovata sempre nelle nuove nel nuove api di gioco aggiornate ieri pomeriggio che va a dire future loot tables do whatever assumes you want loot athena interrogate quindi vanno a richiamare una funzione loot athena treasure red il tesoro rosso athena treasure blue il tesoro blu athena treasure white il tesoro bianco che cos'è questa cosa non lo sappiamo però potrebbe essere una nuova ltm in arrivo o magari un nuovo crossover o magari una collaborazione qualcosa è stato inserito quindi aspettiamoci di vedere sicuramente un aggiornamento qualcosa di interessante che potrebbe speriamo arrivare entro il termine della season perché come già detto il tempo è veramente tanto io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche il video di oggi mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali io sono in live adesso sulla piattaforma viola ciao ma doveva vedersi voi non si vede l'altro e allora come sempre faccio io l'altro gring in giro 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 in ragà cangà cangà sgarabra gara 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 devo contare ancora fino a otto secondi per i dieci minuti quindi sapere soldi il triplo porca miseria non fare ciao